L'acqua è al centro dell'attenzione, soprattutto anche con l'esito dell'ultimo referendum, sia in termini di gestione della risorsa idrica e quindi della sardaguardia dell'ambiente, sia in termini di investimenti economici che gli operatori e quindi i gestori dovranno fare sulle infrastrutture per gestire questa risorsa naturale. Al Salone di Telecontrollo, come sai a Barges, quale società ha tecnologia innovativa, parleremo degli investimenti che in tecnologia aiutano a gestire l'acqua come risorsa naturale e evidenzieremo come molto spesso gli investimenti migliori non siano quelli più bassi all'inizio, ma quelli che sono più bassi in termini di vita di gestione delle infrastrutture stesse. Grazie.